con i piedi Balsaretti, traversone per Salaceta la tocca forse con un braccio Marcelo Salaceta 1-0 vuole andare a parlare con i guardalini Messina perché tutto il Bologna è intorno ai guardalini perché ha visto un intervento di mano di Salaceta poi il pallone anche a occhio nudo l'ho visto dentro però sono curioso di vedere il controllo di Salaceta Ammonito Bellucci il pallone mi è sembrato dentro anche a occhio nudo rimbalzato all'Italia della linea ma i giocatori del Bologna secondo me non stanno protestando per la concessione del gol ma per lo stop di Salaceta che la tocca forse con un braccio e poi il pallone non è neanche entrato, sbagliato io il pallone non è neanche entrato ho clamorosamente sbagliato anche io dalla mia prospettiva non so se la tocca con il non so se lo tocca con la mano ma il pallone non era entrato e il controllo è con il braccio si si la tocca con il braccio la tocca con il braccio e questa ho chiamato ero sicuro però io qui ho avuto l'impressione che avesse toccato dentro il pallone invece ho sbagliato dalla mia prospettiva no no nettamente fuori nettamente fuori poi tocca di nuovo la traversa è ancora fuori grazie 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 grazie